In questo momento, proprio sul palco, il timurato della Madonna Ibonaria, non esce quasi mai dal santuario, questa è un'occasione unica e viene portata dai padri mercedari. Forse la devozione verso la patrona massima della Sardegna. Forse la devozione verso la patrona massima della Sardegna. Forse la domanda massima della Sardegna.